Guardate che meraviglia! Ma sono belli amiche anche gli altri colori, eh? Sono belli anche gli altri colori. Qui dovete sbizzarrirvi. Modello Gucci, banda elastica con colori glitterati che si ripropone poi sul polsino della manica, con l'apertura molto fine a goccia sul retro con il bottoncino in madreperla. È eccezionale la manichina in trasparenza, 45 euro, bellissimi. Quindi, ritiro. Allora, modello Missoni. Modello Missoni, me ne rimane uno che è Ancona Milano 21-0-11. Modello Missoni, uno scollo amiche prezioso, molto molto pronunciato, sia sul davanti sia sul retro. Tutto a piegoline, la gonna, cintura in vita, esagerato, guardate. Bellissimo. Veniva a 119 euro. È l'ultimo pezzo, modello Missoni, unico. Guardate che colore amiche, bellissimo. Veramente, veramente meraviglioso. Qui dovete sbizzarrirvi. Guardate la colorazione. Unica disponibilità, 45 euro. 45 euro, bellissimo. Modello Missoni. L'avevo presentato ancora nel vecchio studio. Con la, ovviamente, la fodera, la sottovestina sotto. Unico pezzo. bellissimo. Bellissimo. Guardate la cintura. Guardate i colori. Guardate il tessuto. Stanno esplodendo i centralini, amiche. Grazie. 45 euro. Bellissima. Beh, un abito, amiche, fresco. Anche questo, amiche. Assolutamente elegantissimo. Da sera, da aperitivo, da cocle, da cerimonia. È di un'eleganza disarmante. Poi, questo scollo pronunciato che va a valorizzare le vostre spalle, il vostro decoltè. Mamma mia, sotto costa 45. Voglio un'amica immediatamente a confermarlo. Guardate. Abiti di grande classe. cosa state combinando? Bellissimo. Mi sa che è andato. Amiche, ma questi prezzi dovete correre. Guardate la morbidezza. La filatura. In viscosa. Qui avete il turchese, il verde ottagno, il marrone, il rosa, l'amaranto. Bellissimo. Unico. Dieci. No, no, no. È possibile, le amiche. Sì, questo qua. Allora, tutta la lunghezza dell'abito Gucci. Allora, tutta questo ve l'avevo anche indossato, eh. Non ci posso credere che sia ancora qua. Non ci posso credere, amiche. Una cosa del genere. Un modello Missoni. Che se andate a vedere le vetrine di Missoni, rimaniamo sotto shock per un mese dai prezzi. 39 euro. Voglio vedere. voglio proprio vedere come va a finire. 39 euro. Bellissimo. Voglio proprio vedere come va a finire con voi, eh. Con questi prezzi. Veloci. Allora, allo zero ritiro e ve lo rimetto a 119, eh. Dieci. Nove. Otto. Sette. Sei. Cinque. Quattro. Tre. Due. Uno. Mi sa che è arrivata. Ritiro. Mi sa che è andato. Brave. Vi amo.